Quello che mi piaceva era prendere gli appuntamenti, ciottare con loro su internet, parlare al telefono, ascoltare le loro voci, immaginare cose, e poi andare, scoprire l'hotel, non sapere con chi sarei andata a letto. Era come un gioco. Avanti. Mentre ero lì non sentivo quasi niente. Ma quando ci ripensavo dopo, a casa, o a scuola, avevo voglia di rifarlo. Brava! Grazie. Mi hai preso tu la camicetta di sete grigia? No. Sei sicura? Ma sì, non rompere, non te l'ho presa. Un uomo mi ha seguito a fuori scuola e mi ha proposto dei soldi. Quanti anni ha lei, veramente? Diciassette. Diciassette. Diciassette anni. Che bell'età. la scuola. Ma sì, non ti ak Owner ma come, Ma dalla scuola